Osvaldo Di Domenico, solo per un attimo, Arsenio Edizioni, domani la presentazione nella splendida cornice di Villa Flaiani. È una grande emozione ma in realtà è il proseguimento di un hobby, di una passione scoppiata per caso e poi diventata realtà. Sì, buongiorno a tutti. Questa passione mi è scattata improvvisa, in attesa, è piacevolissima nel 2014, ho iniziato per gioco a scrivere il primo romanzo che poi ho terminato nel marzo del 2015 e poi sempre per gioco l'ho autopubblicato utilizzando una piattaforma di self-publishing e da lì mi è esploso tra le mani perché poi c'è stato l'interessamento di un editore che mi ha proposto ed effettuato un meraviglioso lancio nazionale e da lì la passione non si è più fermata. Solo per un attimo è il mio terzo romanzo, verrà presentato nella straordinaria e incantevole cornice di Villa Flaiani ad Albadriatica dove ovviamente siete invitati tutti e sarà una serata basata sulla convivialità perché sarà gestita dalla Proloco, dalla biblioteca di Albadriatica e dal mio editore che è l'Arsenio Edizioni cercando di dare un tocco di territorialità. Sono tanti i momenti che possono poi consentire di buttare giù delle pagine che poi può essere raccontato in tanti modi domani appunto l'ultimo figlio, chiamiamolo così. Solo per un attimo è un giallo che rientra nella categoria young adult dove narra la storia di cinque giovani alle prese con la loro comune passione smodata per la musica e in realtà narra la straordinaria avventura di questi cinque giovani. Due di questi giovani sono due ragazze ovviamente frutto di immaginazione di Teramo e alcune scene si svolgono ovviamente quindi a Teramo, altre scene si svolgono in Albadriatica ed ecco il perché la scelta della location della presentazione. Questa bella avventura di questi cinque giovani sarà presentata domani sera alle 21.30 nel parco di Villa Flaiani ad Albadriatica via Roma 32 e mi auguro che accorriate tutti per salutare la nascita di questo romanzo con l'abbinamento della casa editrice Arsenio Edizioni della straordinaria editrice Valeria Di Felice che nell'occasione lancerà il suo nuovo marchio editoriale.